Le più volte sostanzialmente in questi giorni ha parlato di emergenza idrica definendola quasi come un qualcosa creata ad hoc. Allora io sono venuto a rilasciare questa intervista innanzitutto per dire una cosa che il Cilente è una delle zone più ricche di acqua dell'Italia e del mondo. L'acqua l'abbiamo, adesso la dobbiamo solo gestire bene. E perché dico questo? Era parecchio che non mi occupavo più di cose della politica, però a un certo punto ho visto comparire su internet un manifesto che non solo annunciava che non c'era l'acqua, ma che la situazione si sarebbe ulteriormente aggravata. Era un manifesto che costituiva un grave danno di immagine per il Cilento, un manifesto contro il turismo, che francamente è una cosa che non si è mai vista, insomma è la prima volta. Ora io faccio il Presidente di una cooperativa agricola. Noi facciamo investimenti e li paghiamo con il nostro lavoro. Quando le annate agricole non vanno bene uno spera nel turismo, ma quando poi tu vedi che la politica locale fa il manifesto contro i turisti, ovviamente, poiché i Presidenti delle cooperative servono a mettere le firme sotto le cambiali, e io ho garantito che con i miei beni sia ben chiaro, oltre che con quelli della cooperativa. È chiaro che ti vengono gli incubi, ma credo che non saranno venuti solo a me, sono venuti a un sacco di operatori economici della zona. Per cui, la prima cosa da ribadire, l'acqua c'è, ce n'è in abbondanza. Chi dice che le sorgenti sono diminuite del 48%, non so come abbia fatto a misurare questa cosa, perché il fiume di Ruotolo che versa l'acqua al mare, come l'hanno fatto a misurare? Quello fa 5.000 litri secondo. Come hanno fatto a misurare i pozzi del Mingard che nessuno è stato mai capace? Quindi queste sono cifre che girano così, ma senza nessun senso. Partiamo da una cosa, il fabbisogno del Cilento è 600 litri secondo, compreso i turisti, dando tre quintali di acqua a persona. Ma i turisti ne consumano una di quintali, sì e no, perché i turisti consumano pochissima acqua, questo è ben accertato. Il problema sono le reti, allora, sostanzialmente, le reti fatiscenti, obusolete, che andrebbero sostituite, rimesse a nuovo? Le reti obusolete e fatiscenti sono sotto gli occhi di tutti. Il secondo motivo perché io sono venuto qua è perché vorrei fare le condoglianze a tutte le famiglie dei sindaci che sono morti, perché nessuno chiede i fondi per la sostituzione delle grandi addottrici, quindi i sindaci sono morti. È vero che la regione non si fissa questa priorità. Ma i sindaci, gli onorevoli locali, le cose che fanno? Perché voglio dire, qual è il problema? Noi abbiamo alle sorgenti circa 30.000 litri secondo, ne dobbiamo distribuire 600 e facciamo tutto questo casino fino a fare il manifesto contro il turismo. Ma questo è assurdo. Ma che nessuno parli poi? Io vengo qua a fare il funerale di quelli che non parlano perché sono morti. Scusatemi, ma la regione. Io ho nelle mani qua un articolo di un mio amico giornalista, Antonio Manzo, del 2012, che va a intervistare il presidente della Cassa del Mezzogiorno. Gabriele Pescatore, un uomo proprio pescato da fanfani, era un consigliere di Stato, quindi di una grande professionalità, e viene messo alla testa della Cassa del Mezzogiorno. Questo giovane che cosa fa? Va negli Stati Uniti a chiedere dei fondi per fare le grandi infrastrutture del Mezzogiorno. Guardate, io vi leggo questa cosa. In Italia mi procurai invidie soprattutto dal fronte dell'Iri dopo il successo del finanziamento americano, 250 milioni di dollari. Soldi americani, una sorta di secondo piano Marshall. La Cassa del Mezzogiorno era un braccio operativo del piano Marshall, che a sua volta era il prodotto delle politiche keynesiane. Cioè, che cosa si faceva allora? Per ricostruire l'Italia, che era distrutta dalla guerra, si facevano gli investimenti. E dove si facevano? Innanzitutto nelle grandi infrastrutture, fognature, acqua, luce, le cosiddette infrastrutture primarie, che vengono prima. La seconda cosa per la quale io vengo qua è per ribadire che noi siamo, per il 99% noi esseri umani, acqua. Abbiamo bisogno di bere dagli 8, raccomandano i medici, dagli 8 ai 10 bicchieri di acqua al giorno. Ce la vorremmo bere nella migliore condizione possibile. Come visto che siamo acqua e dobbiamo riempire questo secchio di acqua ogni giorno, lo possiamo fare bene. Oppure ce la dobbiamo andare a prendere depurata. Ma che significa depurata? Io mi ricordo ancora il manifesto che fu fatto alcuni anni fa dall'ASL. Noi abbiamo testato le acque depurate della dica di Canna Longa. I residui organo allogenati sono al di sotto dei limiti di legge. Benissimo, una grande allegria nel mentre mi bevo 10 bicchieri di acqua con i residui organo allogenati al di sotto dei limiti di legge. Mentre l'acqua delle sorgenti si spreca e i tubi sono sfasciati. Allora, ma come è possibile andare a comprare acqua e metterla nei tubi sfasciati? Così ne compriamo altre ancora. E perché non si possono ripristinare i tubi? Perché la regione, da quando è subentrata alla Cassa del Mezzogiorno, non si è occupata più dei tubi. Ancora voglio leggere questo pezzo dell'articolo di Antonio Manzo. Primi anni 50 e la mia missione fu con il ministro del Mezzogiorno, Piero Campilli, uno statista. Prima di partire ci impegnammo a dover consumare un solo pasto al giorno per evitare di tornare in Italia con note spese troppo esose per il bilancio della Cassa e del Ministero. Certo non ci morimmo di fame, ma rispettammo quest'impegno di un solo pasto al giorno perché onorammo il motivo della nostra missione in America. Cercare dollari e ne ottenemmo davvero tanti per ricostruire l'Italia. Non potevamo tradire chi ancora viveva tra le macerie senza panna. Ma noi abbiamo questa classe dirigente più. Questo per dire che oggi non c'è una classe politica attenta. Ma non c'è, è diventata una pazziella per le creature questa cosa qua. Oggi inauguriamo il sentiero degli innamorati. Il parco fa il premio del carciofo violetto. Ma quando il parco deciderà di interessarsi di suolo, di acqua, di terra, di animali, di piante, di persone... mai. È come se tutti quanti fossero imbazziti e partecipano a un gioco, Parkway, il recupero della... quando mettiamo per il recupero della biodiversità 12 milioni e poi andano... ma voglio dire... ma per piacere... ma insomma siamo arrivati a un punto proprio di ridicolo mentre si trascurano le infrastrutture primarie per cui... cioè nel mentre si annuncia il finanziamento si... poi si dice... eh però non era nelle priorità della regione. Questi grandi uomini di Stato... che giocano così... giocano... stanno giocando come bambini... e beh... impazziti... impazziti... ma... 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 ma tu... ma voglio dire... e nessuno parla... ma come mai nessuno parla... la terza cosa per cui sono qua è che voglio annunciare anche che... non me la... allora... io ho festeggiato da poco i 70 anni... auguri... allora... e poi mi sono messo a pensare che... visto che... non mi rimane molto tempo da vivere ancora... mi voglio interessare di questa cosa dell'acqua... però non lo voglio fare da solo... per cui... e sono qua per lanciare un appello... innanzitutto ai vecchi componenti del comitato almeno l'acqua... perché diciamo abbiamo fatto battaglie in passato... e poi per allargarlo anche ai nuovi... cioè... io voglio mettere a posto questa cosa... è la... è la... è la... è la sfida del mio ultimo pezzo di vita... ovviamente chiedo di condividere questa cosa... anche con altri... perché... voglio dire... a me non mi va di morire... come... come i sindaci... o come altri che non parlano... e penso che ci siano tante persone che come me... sono disposte a battersi... insomma... certo... io non ho molto tempo a disposizione... come ho dichiarato... ma... però... c'è un problema di cultura... cioè delle risorse... ho pubblicato... i dati sulle sorgenti uno per uno... oggi ne possono beneficiare tutti... e... penso che anche... cioè... questo è stato un lavoro molto importante... no... perché vedete... l'altro aspetto è che... questa classe dirigente che noi abbiamo... non conosce il territorio... quindi non conosce la geologia... l'archeologia... i beni culturali... cioè... voglio aggiungere... molti sindaci... non so... mi... cioè... quanti sono i sindaci del Cilento che conoscono San Mauro e Cilento... e di converso... quanti sono i sindaci del Monte Stella che conoscono le bellezze del Vallo di Diano... cioè... bisognerebbe proprio... no... lavorare a questa integrazione di conoscenze... perché... e oggi ogni sindaco va a difendere... come un'immensa proloco nel parco... e gli interessi del suo comune... no... che spesso sono la festa delle percocche... piuttosto quella delle banane... insomma... ma... 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 ma non hanno una visione complessiva del territorio... per cui di fronte a problemi gravi... come quello dell'acqua... non sanno proprio dove mettere le mani... ora... noi abbiamo bisogno di formare questa classe dirigente... cioè... ma... ma soprattutto... non è possibile che... nei tubi marci... venga messa dell'acqua che abbiamo pagato molto di più perché è depurata... e noi ce la prendiamo gratis... cioè... questo è un'assurdo... è un'inciviltà... cioè... se tu perdi 220 secondi dal faraone... e te ne vai a comprare 50 dalla dica... sei un imbecille... insomma... voglio dire... non è che ci sono altri termini per... e poiché questa cosa capita... io mi sono scontrato con questa cosa già anni fa... insomma... però io penso che adesso possa bastare... perché... la cosa ha superato ogni limite in questo momento... e sapendo... la siccità si frondegge in tanti modi... io voglio dire subito una cosa... ed è il quarto motivo per cui sono qua... che l'acqua non va sprecata... cioè... si può fare l'aridocultura... per esempio... i francesi coltivano gli orti col BRF... col cippato... senza acqua... ed è fra l'altro... si forma un terreno bellissimo... ma da noi invece si bruciano ancora le frasche... si sono fatte sparire le cisterne... e il mio vicino di casa... ha fatto... ha fatto una cantina al posto della cisterna... e ci ha apprezzato un brano inglese... un brano inglese... un brano inglese... e ora che i piani regolatori si occupino di questa cosa... non si può fare i brano inglese nel Cilento... e le cisterne che sono... il patrimonio della cultura... della storia del Mediterraneo... le casse dei greci, dei romani, dei cretesi... avevano il tetto rivolto verso l'interno... che spioveva verso la cisterna... e così è stato nel Medioevo... così è stato fino all'Ottocento... io non capisco perché adesso non dobbiamo più... usufruire diciamo dell'acqua piovana... quando piove... perché poi non è vero che non piove mai... fra l'altro... non è neanche vero che le sorgenti hanno subito questo danno così grave... perché ricorderete tutti... che non solo è piovuto ma è nevicato... e per dieci giorni abbiamo avuto il congelamento della neve... abbiamo avuto temperature al di sotto dei dieci gradi... insomma quindi... allora tutto questo può portarci un beneficio... oppure si può ricorrere ad antiche sementi... che non sono molto idroesigenti... non si debbano fare culture azotate... perché quelle sono di nuovo molto idroesigenti... cioè si può usare l'azoto vegetale... oppure letame... cioè voglio dire... si può fare l'irrigazione a goccia... cioè perché l'agricoltura... arriva a consumare anche il 70%... l'unica cosa che non si può fare è vietare di fare l'orto... perché come diceva Ansel Kiss... e l'orto... il pane fatto in casa e il pesce azzurro... a me mi fanno vivere 20 anni di più... allora il problema non è che tu mi vieti l'orto... mi vieti l'orto... mi fai bere l'acqua depurata... e io devo morire prima per colpa tua... ma dove sta scritto? perché nella verdura fresca... questo non lo dice mai nessuno... ci sono le vitamine... che non ci sono invece... nelle verdure che stanno 100 giorni in un frigorifero... ci sono i sali minerali... ci sono gli antiossidanti... allora voglio dire... finiamola... perché ora è arrivato il momento... di parlare... e di dire che noi vogliamo questi soldi per il tubo... io vigilerò... e insieme con me ho già... raccolto le volontà di un sacco di persone... vigileremo... prima di tutto... perché... si faccia il finanziamento... secondo... perché si attui il finanziamento... perché già quello è stato... tante volte... sbandierato... e poi non si è fatto mai... allora ora basta... io non ho capito... quale cupola massonica impedisce... che si finanzi il tubo dell'acqua... noi abbiamo finanziato la rete duale... sulla costa... passa pure un paese tuo... è passata la rete... ma non è passato mai un litro d'acqua nella rete... no... io sono stato l'unico sindaco a non essere d'accordo... va bene... e ora... che faccio questa rete... senza acqua inda... mentre il faraone non viene riparato... qualcuno... qualcuno poi ce lo dovrà dire prima o poi... o no... nessuno parla... quindi... sono successe... in questi anni... sono stati dati miliardi... delle vecchie lire... per fare questi depuratori... allora... il mio amico... Pinuccio Fontana... che è morto nel 90... e che stava nel consiglio di amministrazione del CONSAC... mi diceva... che i tubi erano stati messi senza protezione catodica... e perciò si erano tutti quanti rovinati... me lo diceva negli anni 80... dagli anni 80 a mo... nessuno pensa di dover riparare i tubi... mentre facciamo le dighe... poi facciamo i depuratori... i super depuratori... e ci avrebbero fatto bere l'acqua della diga dell'alento... ma forse nessuno se lo ricorda... quando tentarono... veramente degli irresponsabili... perché... loro hanno visto le condizioni di partenza... arrivò tanta di quell'acqua gialla... nei tubi... e nelle case di Agropoli e Santa Maria... che scassarono... lavatrici... lavastovigli... che credo siano state costrette poi a rimborsare... ai legittimi proprietari... ma insomma... ma quando la vogliamo fare è finita... ecco... questa è la domanda che io mi chiedo... allora... noi... andremo avanti... a vigilare... va bene... sulla sostituzione... la sostituzione... non la riparazione... la sostituzione dei tubi... io mi metto nei panni... dei tecnici del CONSAC... che sono veramente delle ottime persone... con grandi capacità... ma come possono riparare... un gol a brodo... perché... il meccanismo... qual è? la pressione dell'acqua... si esercita sull'intero tubo... quando è rotto... la pressione diminuisce... se io lo vado a riparare in un punto... la pressione torna ad aumentare... ed aumenta... sul punto prima... e sul punto dopo... e quindi da... una rottura... quando ne faccio tre... eh... ma voglio dire... ma questo... fino a quando può continuare? Luigi Rispoli ha denunciato... che in un solo anno... tra... Alfano e Torrosaia... hanno fatto 120 riparazioni... e nessuno si è mossa a pietà... di fronte al fatto che chiedevano il finanziamento del tubo... e come mai? ecco... ecco... allora... questo non può continuare... ma ripeto... la colpa... è sicuramente della regione... che ha responsabilità... gravissime... se ne dovrebbero andare tutti a casa... se ne debbono andare a casa... innanzitutto... tutti gli uomini... dell'assessorato alle acque... tutti... nessuno escluso... perché basta mo... questo è anche un altro motivo... per cui sono qua... chiedere le dimissioni... di tutti gli uomini... dell'assessorato alle acque... ma è possibile mai... che si danni i soldi... per le diche... e non si danni più i tubi... per far bere la gente... ma questo è molto grave... e ovviamente i politici... i politici che gestiscono... questo scandalo... questo è... uno scandalo... eh... voglio dire... poi a qualcuno... deve pure venire qualche dubbio... del perché questo scandalo... si riperpetua... o no... e bene a nessuno... ma... a tutti...